Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme con un nuovo video di queste bellissime capsule schicks che io stra-adoro, ma veramente sono super fantastiche. Ho notato differenze tra le versioni, questa ad esempio è la versione che è anche europea, infatti c'è anche l'italiano e è quella appunto, tra virgolette, americana, perché su quella americana mettevano anche le rarità. Vi faccio vedere. Questa è la versione Sweet Circus americana e questa appunto è quella europea, come vedete c'è della differenza. Qui vedete che contraddistinguono rari fabbriche, quindi di tessuto raro e di tessuto ultra raro. E avevamo le varie differenze poi in tutto un po' il booklet. Mentre nella versione europea non ci sono distinzioni, quindi sono tutte uguali, diciamo. Vedete qua non scrivono nulla, nessuna differenza. Comunque ho un'altra box della Sweet Circus, vediamo se è lo stesso europea o se è ancora quella americana. Comunque, oggi apriamo queste citrelle più alte, più magic, che è una delle collezioni che mi piace di più. Perché è proprio tema un po', non so, lo vedo marino. Andiamo ad aprirlo. Per chi non avesse visto gli altri video ve li consiglio, perché sono veramente, cioè, fantastici. Perché l'oro sono fantastiche. Qui abbiamo il booklet, che è identico. Vediamo. Aspettate che lo prendo. Sì, è identico, quindi appunto, come dicevamo, è la versione europea. E andiamo a girare la rotellina per far uscire il primo gashapon. In Italia, come vi dicevo nei scorsi video, in un momento non le ho ancora viste. Io le ho prese da The Toy Shop a 15 sterline. Apriamo subito. Allora, questa base poi ci può servire appunto come base per lo stand. Infatti, tutte queste bamboline hanno uno stand per tenerle in piedi. Ed è una cosa veramente fantastica. Allora, la prima cosa che troviamo... Oh no, oh no, oh no, ragazzi! Il primo doppione, che tra l'altro non mi piace. No, che sfortuna, che sfortuna! E sarebbe questo. Il primo doppione, mannaggia. Quindi, se qualcuno per caso ce le ha, se ha voglia di scambiarle con me, sarei molto molto contenta. Quindi, niente, questo non lo apro neanche, perché appunto ce l'ho già. Questo è il corpo della nostra bambolina. Mi piace tantissimo perché potete appunto muovere le braccia, i gomiti, i polsi. Insomma, farle fare qualsiasi posizione vogliate, ovviamente, nei limiti delle sue possibilità. Però, è veramente fatto bene. Mi piace tantissimo. Ok, andiamo ad aprire un altro gashapon. Qui c'è la testa. E la testa è diversa. Sì, non ne ho nessuna così ed è molto molto carina. Guardate, ha l'eyeliner viola con un cuoricino sulla guancia, l'ombretto fucsia e su quest'occhio invece ha disegnato un cuore. Quindi questo è già molto molto carino. Mettiamogli subito la testolina. Eccola qua. E qui abbiamo anche lo stand. Che mettiamo subito. Perfetto. Proseguiamo. Guardate che gonna particolare. Mi ricorda un po' l'Egitto. Bellissima. Qui abbiamo le gambe. Quindi mettiamo la gonna. Che bella. Bellissima questa gonna. Veramente mi piace tanto. Allora. Non è molto semplice perché poi le gonne... Praticamente è un po' difficile mettere queste tipologie di gonne. Perché vedete che c'è un piccolo... Vediamo se così vedete. Ecco. È un piccolo quadratino. Che dovrebbe combaciare a questo quadratino qui. Però non combacia mai. Neanche nell'altra gonna che avevo. Infatti avevo fatto fatica. Quindi bisogna spingere giù per bene. Ma deve essere proprio fatto. Proprio al millimetro. Vediamo. Vediamo se... No. Vabbè. Scopriamo le altre cose che ci sono. E poi vediamo come creare l'outfit. Allora. Vediamo un pochettino. Certo che però che sfortuna aver trovato già un doppione. Cioè ce ne sono talmente tanti. E io vado a trovare proprio il doppione. Veramente. Che tra l'altro dovrebbe essere anche uno dei rari. Però insomma. Wow. Ragazzi. Guardate la borsetta. Che bella. Stupenda. Bellissima. Uh. Quelle starpine. Carine. No dai ragazzi. Che carine che sono. Sono adorabili. E poi il classico braccialetto che evidenzia appunto il suo club. Chiamamolo club. Quindi andiamo a metterlo. Ok. No ragazzi ma sono troppo carine queste. Mamma mia che carine. Con anche un po' di zeppa. Tendenzialmente sono tutte con la zeppa queste scarpine. Cioè veramente le strade oro. No vabbè ci devo riuscire dopo sicuramente. Ecco però queste scarpine non avendo nessuna chiusura. Bisogna stare attenti se no si perdono. Ok. Andiamo ad aprire l'ultima box dove per l'appunto troveremo i capelli. Vediamo. E sono anche pesantini questi capelli. Wow. Caspita. Che carina. No veramente ragazzi. È bellissima. Adorabile. No veramente guardate. Tutta margheritosa. Proprio. Bella 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 bella. Cioè mi dispiace solo per questo. Ma non voglio metterglielo su. Come posso fare? Mannaggia. Oh uffa. Già sto litigando. Con questa gonna. Veramente. Mi fa impazzire. Allora intanto lasciamo in parte. Vediamo cosa ci dice la check. Allora. Vediamo un attimo. Come viso ho trovato questo. Che è molto carino. Poi. Di questo la borsetta. Super chicosa. Vediamo se loro propongono qualche outfit. Oh guardate ad esempio. Questa parte in alto. Secondo me. È la sua di questa. Eh sì. Sarebbe la sua. Loro l'hanno abbinato con altro. Ecco. Questa gonna qua. Loro l'abbinano con una camicetta. Cioè io farei il contrario. Sinceramente. E poi questo. Cappello in testa. Cioè sembrerebbe proprio. Cioè io vedrei. La vedrei così. Proprio stile egiziano. Come esatto. Questo. Cappottino. Diciamo. Giubbottino. Starebbe bene con un pantalone. Così. Poi. Vediamo. Questa è l'acconciatura. Beh. Carina. Molto. Molto carina. Ma tendenzialmente. Di quei. Guardate. Cioè anche questa. Guardate che bella che ha. Di questo club mi piacciono. Praticamente tutte. Poi di questa linea. Non ho trovato nulla. Neanche qui. E poi ci sono. Queste scarpine. Super adorabili. Che loro compongono. Con questo. Outfit. Che di cui. Non ho appunto. Nulla. E poi la pubblicità. Appunto. Delle altre. E quindi. Come posso vestirla. Ci penserò. Poi vi metto. Tutte le foto. Su Instagram. Ok. Sono riuscita. A mettergli la testa. Sì. Il corpo. Però. Così. Senza. Maglia. Non mi fa impazzire. Mannaggia. Non so cosa metterle. Devo trovargli qualcosa. No. Non si è ancora attaccato bene. Mamma mia. Veramente. Ragazzi. Queste gonne. Mi fanno impazzire. Poi. Poi. È divertente. Anche. Trovargli. Delle posizioni diverse. Di non farle tutte. Uguali. Cioè. Veramente. Io adoro queste bamboline. Cioè. Non ci ne devo fare. Le adoro. Le adoro. Le adoro. Le adoro. Mannaggia. Che nervoso questo bello doppio. Ok. Vabbè. Dopo questo. Pseudo sfogo. Ci perderò un po' di tempo. Insomma. A riuscire. A. Mettere per benino. Questa. Donna. No. Vabbè. Ci riuscirò sicuramente. Quindi vedrete poi tutte le foto. In Instagram. Ok. Quindi. Questa box. L'abbiamo terminata. E devo dire che comunque. Mi piace tutto. A parte aver ricevuto. Insomma. Aver avuto questo doppio. Ma per il resto. È tutto bellissimo. Cioè. Adoro la gona. Stile egiziano. Queste scarpettine. Così. Anche l'acconciatura. Mi piace tantissimo. La borsa. La doccia. Mi piace tutto. Quindi sono veramente. Molto. Ma molto contenta. Scrivetemi. I vostri pareri. Cosa ne pensate. Se per caso l'avete acquistata. Anche voi. Da toy shop. O da amazon. Che il trino dovrebbe essere su amazon.com. Perché su .it. Non dovrebbe esserci. Se per caso c'è. Vi lascio il link giù. In descrizione. Che dire. Sono veramente bellissime. Quindi mi raccomando. Allora. Pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo. Che potete trovarmi. Su Instagram. Per l'appunto. Dove vedrete le foto. Facebook. Twitter. E Tumblr. Un bacione. E al prossimo video. Ciao ciao. Ciao.